ciao a tutti oggi siamo qui in serra semenzaio per farvi vedere quello che avevo accennato qualche giorno fa il mio nuovo progetto praticamente adesso ve lo farò vedere in dettaglio un sistema di ineffiatura automatizzato con digi spinger distribuito per tutta la serra che serve a bagnare sia diciamo così il seminato infatti avete visto ho seminato già delle insalate e mi servirà anche per bagnare tutti i miei vassoi di sementi che andrò a prendo mare più avanti adesso vi faccio vedere tutto il dettaglio ecco qua in pratica come vedete ho distribuito tramite del potete usare qualsiasi cosa vedete laggiù ho usato dei dei paletti di legno dei paletti di recupero qui delle canaline quelle da cartongesso per farsi capire o semplicemente fissato con dei cordini di nylon che avevo recuperato al soffitto della serra questi qua regolandoli in questo qua l'ho fatto in un modo molto semplice ho usato una molletta come vedete arrotolo il tutto il filo lo faccio passare posso alzare e abbassare tutta la stecca tutta la stecca perché può essere l'ideale abbassarla quando abbiamo delle delle semine delle delle sementi e alzarla quando avevamo già le piante un po più alte o viceversa per per poter bagnare i miei vassoi con delle semplici assi di recupero come vedete questi assi di recupero da vecchi pallet li ho nel sistemo che le utilizzo per appoggiarci i miei vassoi come vedete prendo un asse lo appoggio così ne metto un altro e poi ci appoggio i miei vassoi in questa maniera in modo molto semplice in modo da poter e qui può avere senso poter alzare tutta la stecca nella stecca come vedete c'è questo tubo quello da 6 4 mm un quarto di pollice per far sì che per le varie misure come vengono un po come trovato in giro e con un t ho fissato le fascette e con una stecchetta per tenere un dritto mio spinger che ha l'effetto nebulizzatore questo l'ho fatto ogni 50 cm un metro in modo da con il loro raggio che coprano uno che non ci sia praticamente una parte scoperta all'interno questo l'ho fatto per tutta la serra come vedete l'ho fatto anche sui lati e a seguire per tutte queste parti quindi potrò in qualsiasi momento poter innaffiare e usarla sia come piantumazione di ortaggi o come semenzaio qui praticamente ho sezionato tramite uno e due rubinetti laggiù la possibilità di bagnare o meno questo tratto ok e per farci capire in fondo ho inserito dei rubinettini così in modo da poterli chiudere con una riduzione dal tubo a impianto di all'allico ci sono delle riduzioni questo qua da tre quarti a un quarto è collegato il tutto con un timer che adesso non utilizzerò ancora ma più avanti sicuramente sì per bagnare quante volte si vuole basta regolarlo lasciare il rubinetto aperto e impostare il timer e bagnare il mattino e sera in automatico senza problemi adesso vi faccio vedere un attimino funzionamento come vedete come vedete questo è l'effetto finale loro spruzzeranno con questo effetto nebulizzazione e andranno a bagnare dolcemente il tutto questo l'ho realizzato semplicemente utilizzando quasi tutta roba di recupero se non che tutta la parte di gocciolatoi e parto problematica se vi interessa vi ho messo il link sotto per trovare tutti gli accessori quindi il la gommina portante i it per dividere le per fare uscire i gocciolatori i gocciolatori e i rubinetti vari sto guardando che effettivamente quasi ora che cambi i guanti questo ormai hanno fatto il loro il loro lavoro e niente e poi per il resto ho recuperato pellet per usare queste farmi dei tavolini e appoggiatoi per i miei semenziali più avanti andrò a fare tutta la pintumazione e metterò tutto qua sopra e avrò tutto molto comodo molto facile a costo praticamente quasi nullo e tutto molto pratico dai adesso vi lascio vado a finire di lavorare ci vediamo alla prossima